Colonne di fumo nero e denso si alzano da Barghuz. I combattenti kurdi appoggiati da milizie arabe e dagli Stati Uniti continuano a martellare l'ultimo baluardo dell'ISIS in Siria, anche se nelle ultime ore i bombardamenti si sono fatti meno intensi perché, hanno spiegato i comandanti militari, in città ci sarebbero ancora dei civili usati come scudi umani. Nei giorni scorsi a migliaia di persone era stato permesso di abbandonare Barghuz, soprattutto a donne e bambini, ma anche alcuni uomini, tra cui combattenti dell'ISIS, ora arrestati. Impossibile dire quanti siano gli ultimi riducibili soldati del califato ancora barricati in città, così come è impossibile verificare se veramente nelle loro mani ci sia il gesuita italiano padre Paolo Dall'Oglio. Secondo un quotidiano libanese che cita fonti kurde, ci sarebbe in corso una trattativa tra gli ultimi jihadisti di Barghuz e le forze kurdo-arabe. I jihadisti offrirebbero la liberazione di padre Dall'Oglio e di altri ostaggi in cambio di una via di fuga sicura. Nonostante alcuni dei civili fuggiti nei giorni scorsi da Barghuz avrebbero detto di averlo visto vivo, tra i confratelli di padre Dall'Oglio c'è grande cautela perché per ora non è stata fornita nessuna prova e non è la prima volta che si parla di una trattativa per la sua liberazione.